3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Che sgommata il pilota! Grande vale! Questa è quella che la mi pismo a me! Degli stessi! Vai così, vai! Vai qua su! Bravo! E cominciamo! Prima chicana! L'ingresso destra! Eccola! Vai! Quaggiù chicana! Sempre in gresso destra! Qua parte la prova dalla casa! Per chi è interessato del Rally Legend, parte da qua! A te, eh! Butta il traverso! Vai! Ah! Beh! Occhio a mano di taglio! Otto, che prima qua c'era una macchina in te metto! Qui è sporca! È super sporca, direi! Vai! Qui con cui hai, un'altra volta tua macchina in te metto! Otto qui! Ehi! Qui! Quello che fai? Guarda il bel qualche lì! Sotto che guarda davanti! Guarda il tornantino! Bravo! Vai giù! va vai su va ti ricordi che c'è il pezzo che adesso arriva che è totalmente stretto e sinistro eccolo vai 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 così bravo qui otto che stretto va vai ecco qui molto attento non allargati troppo bravo via via poche fiamme vai via grande vale va bene va bene bravo qua vai su 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 bravo vado così così vai di qua bravo vai 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 va bene il filo era un po' sporca un po' sentite che rambo il motore mio pilota qua arriva la chicane con ingresso a sto tiro non a destra ma a sinistra ecco la chicane con chicane bello chicane oh buono eh non esatta che è il seme eh sinistra vai qua sono tutti per noi quindi sai da cosa che devi fare qua c'è la chicane sempre sinistra a dire ok adesso scusca ma che bo perché definesi turnante sinistra show e vai va vai grande vado vai qua niente macchine del mezzo che ho messo le palle vai giù questa lì sporca buona lì e vende allora che devo prendere fiato vende tutto il fiato rilasciati con calma attenta fretta bene bene ha fatto una lingua come un cane vende il tuo calco la tua lingua è come un leone qua c'è il tornante sinistro che è stretto e lo sai bravo mi raccomando grazie mille qua vai giù questo è un pelo più largo vai le destri e anche le derive sinistri e vai giù vai 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 apro l'altro va chiude questo è qui la due tempi vai 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 bulla qua mi dicono checcan ingresso destra scherzavo sinistra e poi va a fare il video della casa vai un tondo 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 Grazie a tutti! Vai, arriva a questo! 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 Via! Oh, ce l'abbiamo fatta! Slaccia tutto, Chico! Grazie a tutti! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno!